Musica Mercoledì 19 aprile, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa. Prima dei quotidiani ci occupiamo della Trignina e sì perché sindaci di Abruzzo e Molise si sono recati dal Ministro Salvini per fare il punto sugli interventi di messa in sicurezza dell'importante arterie per parlare del raddoppio del tratto San Salvo Trivento. Ci riferisce tutto in questo servizio Stefania Potente. È corposo l'intervento che consentirà di mettere in sicurezza la Trignina. Per i lavori sono stati stanziati 100 milioni, di cui 21 per i nuovi cantieri e oltre 30 per la manutenzione e l'eventuale raddoppio del tratto tra San Salvo e Trivento. Sarà dunque finalmente riqualificata la statale 650 che collega la costa adriatica alle aree interne del Molise fino a Esernia, come emerso durante il vertice al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tra il Ministro Matteo Salvini e i sindaci molisani e abruzzesi alla presenza dei vertici ANAS. È stata l'occasione per fare il punto della situazione delle infrastrutture e dei collegamenti in Abruzzo e Molise, con un focus particolare sulla Trignina, arteria che negli ultimi tempi ha registrato un aumento del traffico, in particolare di mezzi pesanti, diventando uno snodo importante per il collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico. Ma l'ha stata alle 650 e spesso finita agli onori delle cronache per le tragedie che hanno provocato decine di vittime. Viaggiava sulla Trignina, ad esempio, l'attrice Paola Cerimele, la cui vita si è spezzata il 25 agosto 2022 all'altezza dello svincolo di San Giovanni Lipioni. Proprio sugli svincoli i sindaci hanno chiesto una particolare attenzione da parte del Governo. Ed ora i quotidiani, iniziamo come sempre da primo piano Molise, che apre con la Sanità, Sanità K.O. e i sindaci che battono i pugni sul tavolo del Ministro. Massiccia partecipazione al sit-in di protesta di ieri a Roma, decisa la costituzione di un comitato tecnico ristretto. Schillaci non esclude la revisione del famigerato decreto Balduzzi in successione. Il vertice con Salvini, ne abbiamo parlato nel servizio, per la messa in sicurezza della Trinina. 100 milioni per la manutenzione. Le altre notizie in taglio centrale e intanto a Isernia, studenti in piazza, Pastore torna in pronto soccorso. Va sempre peggio e sempre a Roma, piano di rientro dal disavanzo, ennesimo SOS di Toma a Meloni. A vinchiaturo caccia usa abbattuti dai tedeschi nel 43, appello a chi ricorda o ne ha sentito parlare. Il primo piano si occupa anche di politica verso le regionali. I delegati indicano Facciolla, siamo nel centro-sinistra. Il Partito Democratico ringrazia, ma è pronto al passo di lato. Disponibile a qualsiasi soluzione nel superiore interesse dei molesani. E con la Giovanni invece promuove Gravina. Spero in una sfida Roberto Roberti. Nel pomeriggio, intanto, coordinatori del centro-destra in conclave al Senato. Ci sono anche le notizie di cronaca. C'è questa notizia che arriva da Venafro. Festino a base di droga interrotto dalla polizia. Coppie e manette sequestrati quattro etti di cocaina. La cocaina era in una cassaforte che è stata lanciata dal balcone. A Isernia, Movida Sicura, la vigilanza nei weekend funziona. Plauso a dibagio. E ancora, comma, formazione, eventi e progetti, competenze e passione al servizio di Abruzzo e Molise. Sotto la testata, infine, ci sono i richiami di sport. Ma c'è anche il punto di spalla con clave lungo o parto distocico. Il pezzo firmato da Gabriele Salemme. Dicevo dei richiami di sport. Campobasso, il Bormerripa. Sosta importante per le prossime partite. Poi Fuzzal, spareggi per la 2. Elite, il circolo, la nebbia, Cus Molise. Pesca, la Fenice, Venezia. Mentre per la parlacanestro Magnolia può chiudere i conti nella semifinale playoff di Serie B. Lasciamo primo piano Molise. Andiamo sulla prima pagina del centro. Anziano picchiato e rapinato in casa. Questa è l'apertura. Accade a Pescara. Due dei responsabili, incastrati dalle telecamere, rischiano il processo. In taglio alto, mare, la nuova mappa. Ecco dove la stagione partirà con i divieti. C'è una delibera di giunta. E poi in a 14 stoppa i cantieri. Da domani c'è la tregua che durerà per 13 giorni. Niente lavori fino al 2 di maggio. E ancora le altre notizie. Pescara ricorda Montinaro, caposcorta del giudice Falcone. Mentre la Corte Costituzionale, cospito verso lo sconto di pena, illegittimo non dare attenuanti. Un'ultima notizia. Buche sulle strade. Siamo ancora a Pescara. È ancora polemica. Pescara asfalto rotto dopo un giorno di pioggia. Lite tra il PD e l'assessore sul pizio. Lasciamo il centro. Guardiamo la prima pagina del messaggero Abruzzo. Corso Vittoria. Via al restyling. Pescara, nuovi asfalti e percorsi ciclabili lungo l'asse principale del capologo adriatico. Intanto l'Aquila rivoluziona la sosta in centro. Saranno realizzate oltre mille strisce blu. Mentre per le infrastrutture l'Aquila gratis non basta. Domani sindaci dal ministro Salvini. In taglio centrale il messaggero propone questa foto. Notizie, allarme per i fiumi del Pescarese. Ma al tempo esondato l'orta. Strada chiusa a Bolognano. Ed ancora ucciso per gelosia. La ballerina era pazzo di me. La vittima scaraventata sotto un'auto. Sotto inchiesta. Il gestore di un nightclub. Lasciamo dunque i quotidiani regionali. Andiamo sui nazionali. Ed iniziamo come sempre dal Corriere della Sera. Ci sono aperture diversificate sui vari quotidiani. Diciamo che il caso Lollobrigida è presente un po' ovunque. Ma il Corriere apre con la prova di forza di Putin. Con la guerra. Missione dello Zar a Kherson. Poi il ride sul mercato. Zelensky nel Donbass. Sarà libero subito dopo la visita del presidente russo Vladimir Putin al fronte. In Ucraina sono cadute le bombe. Lo Zar ha parlato ai soldati della regione di Kherson. Poi si è recato anche nell'autoproclamata regione Repubblica Popolare di Lugansk. Nel Donbass a Mosca. Cresce la preoccupazione in vista della controffensiva ucraina. E Putin ha voluto dare un segnale. Ma anche Zelensky è stato nel Donbass. presto sarà libero l'accordo con Varsavia sul grano ucraino. Questo l'incipit del pezzo firmato da Lorenzo Cremonesi e Marco Imarisio. In taglio centrale c'è la polemica dopo le parole del ministro Lollobrigida che ha parlato di sostituzione etnica. Il caso Lollobrigida opposizione all'attacco. Meloni a Milano più lavoro alle donne. Poi il Corriere celebra il Milan. Un'altra impresa pari a Napoli. È semifinale di Champions. Vediamo la Repubblica che è molto critica invece nei confronti di Lollobrigida. dice Lollobrigida shock. La difesa della razza. Il ministro usa lo slogan suprematista. Sull'immigrazione no alla sostituzione etnica. Vanno incentivate le nascite. La premier. La mancanza di lavoratori non si risolve con gli stranieri. Ma con le donne. Gli imprenditori ribadiscono invece. Replicano, per meglio dire, è falso il decreto cutro. La Lega ripresenta tutti gli emendamenti. Inclusa l'abolizione della protezione speciale. Ira di Meloni. C'è il commento di Francesco Bei che dice Il peso delle parole. Poveretti, bisogna capirli. Hanno passato anni a gridare sui social e in tv che avevano la soluzione in tasca per fermare l'immigrazione clandestina. Questo l'incipit del pezzo di Francesco Bei. Mentre in taglio centrale c'è questa foto notizia con il presidente Sergio Mattarella che visita Auschwitz con la fia Laura e le sorelle Andra e Tatiana Bucci. Mattarella, i regimi fascisti complici del genocidio. Lasciamo la Repubblica, andiamo sui quotidiani romani. Iniziamo dal messaggero che ha un'apertura diversa rispetto agli altri quotidiani. Punta sul PNRR. L'Italia chiede più soldi. Prenotati nuovi prestiti per i progetti green del Repower EU. Effitto rimodula le risorse. Il governo accelera sul cuneo fiscale. Decreto per il taglio dei contributi. Già a maggio. E poi l'Ollo Brigida no alla sostituzione etnica e bufera. Un patto condiviso sui migranti dall'Europa. Fondi per l'emergenza. In taglio centrale c'è l'Orsa JJ4 che attende il verdetto sull'abbattimento. Animalisti rivolta. Miele nella trappola. L'Orsa prigioniere. Poi c'è la vicenda tra Totti e Ilari. Il primo K.O. per il capitano. A Ilari Fighi. Soldi e la villa dell'Eur. Decreto del giudice. 12.500 euro al mese per le spese di Christian, Chanel e Isabel. Andiamo sulla prima pagina del tempo che ovviamente ha un'apertura sull'emergenza sbarchi. Ma difende sia l'Ollo Brigida che la Meloni. Noi puntiamo sulle donne. Questo è il virgolettato della Premier. Meloni sul mondo del lavoro. Non servono i migranti ma più occupazione femminile. L'Italia su questo tema deve adeguarsi alla media dell'Unione Europea. Nuovi incentivi alla natalità. bufera strumentale DEM per le parole di Lollo Brigida sulla sostituzione etnica. In taglio centrale il tempo riferisce della cattura dell'Orsa che ha ucciso il runner. Il Tar deciderà, il Tribunale amministrativo regionale deciderà il suo futuro a maggio. e intanto Oscio è sempre molto ironico e usa questo virgolettato con la faccia dell'Ursa. Se rinasco, voglio, nasce cinghiale a Roma. Andiamo sugli altri quotidiani. Partiamo dal fatto quotidiano che Bacchetta Salvini, Salvini bocciato, dice l'ANAC, il ponte è un favore a Salini, ai danni dello Stato, l'anticorruzione. Ministro e costruttore promettono l'opera in sei anni ma l'autorità avverte il decreto va cambiato rischi e costi soltanto sul pubblico. Obusia, il privato resta in causa e potrà chiedere altri soldi. In taglio alto, ma che riforma, Meloni abolisce l'abuso d'ufficio, Melito, sindaco di Fratelli d'Italia, arrestato per Camorra. Diamo uno sguardo anche alla prima pagina del manifesto che come sempre usa una grande foto e poi, lasciatemelo dire, azzecca il titolo. Che razza di governo? Il ministro Lollo Brigida rilancia le teorie di estrema destra del complotto no alla sostituzione etnica e Meloni non servono migranti ma far lavorare le donne. Intanto Mattarella ieri da Auschwitz dice fascisti complici dei nazisti, razzismo e indifferenza sono in agguato. E poi in taglio centrale il caso Cospito, la consulta gli dà ragione, ergastolo incostituzionale, il divieto di applicare le attenuanti per i recidivi. La prima pagina anche della verità che continua la sua battaglia contro i vaccini, i vaccini pericolosi, lo sequestro ma speranza provò a fermare il PM. Questa è l'apertura all'indignazione del magistrato. Sono morti tre giovani, il ministro e il capo dell'AIFA fecero pressioni per non danneggiare la campagna. La risposta c'è un tasso di mortalità quantomeno anomalo. Non possiamo rischiare che le dosi di questo lotto causino altri danni. Questo sarebbe un virgolettato di un magistrato. Invece il Sole 24 Ore si occupa di Superbonus. Superbonus per imprese e banche è più facile compensare i crediti di imposta. Agevolazioni edilizie, via libera al provvedimento delle entrate, è possibile spalmare l'utilizzo in dieci anni. Chance per 10 miliardi di crediti, nuova opportunità a partire dal 2 di maggio. E poi la dichiarazione dei redditi, operazione 730, precompilato al via il 2 maggio online, i modelli, l'invio al fisco dall'11 di maggio. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, con il Milan. Milan-Leone, questo è il titolo scelto dalla Rosa, con l'immagine dei festeggiamenti della gioia di Leao, di Benasser, di Giroud e di Diaz. Dopo 16 anni è tra le quattro big con Leao Super, Giroud in gol e Mignon, eroe. Osimène fa 1-1, Pioli nella storia, rabbia, spalletti, avanti anche il Real di Carlo Ancelotti. E poi c'è il commento, quanto pesa l'EuroDNA? Palla a Simone, Simone è ovviamente Inzaghi, Inter il premio è il derby. Alle 21 l'Inter affronta il Benfica a San Siro, Inzaghi avanti 2-0 e sotto pressione si gioca qualificazione e panchina. Bene, è davvero tutto. Prima dei saluti però c'è il palinzesto, cosa troverete oggi sulla nostra rete? Lo vediamo insieme, c'è alle 11 la presentazione di un libro scritto da Pasquale Damiani, una storia davvero interessante di un capracottese che ha fatto fortuna a Londra e poi alle 13 Paese Mio, alle 14 l'informazione in diretta dagli studi di Campobasso con la collega Samantha Ciarla, alle 16 c'è il teatro, alle 18.30 la speciale Bit Milano, alle 19.30 ancora la nostra informazione sempre in diretta, con invece Pasquale Damiani alle 21, viva la musica con Gigione, alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è tutto, grazie per averci scelto, buona mattinata, arrivederci.